Gianluca Cane Spirit, il team di Gianluca Beggio, che è uno che ha vinto 5 mondiali 5 mondiali? Aiutami a dire 5? 5 Bravo 5 Motore TM e qui appunto il suo driver che cosa si fa lì davanti? Oggi hai fatto un tempo anche buono a un certo punto I tuoi risultati sono più che incoraggianti per domani Un secondo posto, un terzo, un quinto, caspita Non sei tu, ti sei cambiato con un altro, ti hai prestato il piede È il periodo No, davvero Sei andato bene, sia all'italiano se non ricordo male Sì, sì, anche all'italiano Esattamente, adesso qui anche su un panorama internazionale Sì, nuove novità, è andato molto bene Su cosa state lavorando, dici un po', dai, se si può dire, telaio, state affinando un po'? Sì, telaio, anche sul motore abbastanza Quindi novità che vi hanno dato un buono spunto Sì Dici un po' la differenza, tu che non sempre corri in ambito internazionale, ci sono tensioni diverse? No, solo il livello dei piloti, è un po' diverso, impari di più Poi... Questa ti impressiona di più di... Ardigo Ardigo? Cos'ha che ti lascia il segno? La guida non è esagerata, però va abbastanza bene Speriamo che un giorno andremo come lui